buongiorno a tutti questo è un video dedicato ai principianti che vogliono iniziare a muovere i primi passi nel mondo del fai da te oggi vediamo come collegare passo dopo passo l'alimentazione di una plafoniera a led p65 quindi ha un suo involucro stagno è una barra che va benissimo per gli interni ma anche per gli esterni una classica che abbiamo in casa 230 quindi a range di alimentazione che va benissimo 4000 kelvin quindi luce più o meno bianca come potenza abbiamo 4500 lumen a 50 watt in prodotti come questi vengono dati dei piccoli manuali di istruzioni dove ci sono i vari passaggi quindi è molto semplice da connettere qui ho preparato un cavo di prova con già una spina e un 2 per 1 e mezzo quindi due cavi di 1 e mezzo non c'è la messa a terra in questo cavo perché la plafoniera è completamente in plastica quindi non ci sono parti metalliche vicine all'alimentazione quindi in queste tipologie di plafoniere non è prevista la messa a terra questa è l'estremità dove far passare il nostro cavo quello che abbiamo visto prima deve essere un cavo multipolare perché sennò il nostro pg che questo diciamo questo morsetto non farà tenuta quindi entrerà l'acqua non dovete far mai passare due cavi ad esempio due o tre cavi così perché sennò non fa tenuta stagna invece questo questo pg questo pressa cavo dentro a questa gomma ok che si schiaccerà contro la nostra guaina e quindi farà tenuta qui ci sono quattro viti qui andiamo a svitare ed eccoci qua questa è l'altra parte qui tutto qui c'è la guarnizione per la tenuta ok si presenta così in pratica qui c'è l'alimentatore e qui c'è il morsetto estraibile tiriamo così e qua abbiamo già il morsetto in mano ora andiamo a collegare i nostri due fili al morsetto ok primo passaggio svitiamo un po il pressa cavo passiamo facciamo passare il cavo dall'esterno verso l'interno così e poi dopo lo lasciamo libero ok a questo punto possiamo vedere che c'è un filo blu è un filo marrone da quest'altra parte stessa cosa quindi collegheremo il blu col blu e il marrone col marrone esattamente così blu con blu marrone con marrone ora facendo molta molta attenzione andiamo a provare la connessione e inseriamo la spina e come possiamo vedere la nostra barra led si è accesa ok stacchiamo la spina quindi togliamo alimentazione prossimo passaggio infiliamo nella sua sede il morsetto poi facciamo scorrere il nostro cavo la guaina la teniamo leggermente che sborda stringiamo il pressa cavo fino a quando non scorre più la guaina va benissimo anche stringerlo a mano vedete che la gomma ha aderito alla guaina del cavo e non scorre più chiudiamo così e a questo punto il lavoro è finito queste sono delle guide e questa è la staffa a incastro e si può toglie tutte le volte che vogliamo anche a mano così quindi si mette così qua ci sono i fori per poterla fissare a muro quindi in verticale oppure a soffitto e questo è il risultato finale una plafoniera che ci va a illuminare un banco di lavoro se ti è piaciuto questo video lasciami un like se vuoi rimanere aggiornato iscriviti al canale alla prossima ciao 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 ciao